Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale! Oggi facciamo una sfida di potenziamento. Saliremo sulla spalliera, ci appendiamo e dobbiamo rimanere con il cubetto sulle ginocchia. A chi cade il cubetto perde e chi rimane su di più vincerà la sfida. Pronte? In una parallela siete in due, in una spalliera siete in due. Fate Marty e French che siete le più piccoline. Ci state in due. Chiara, vieni di qua o Giada. Pronte? Saliamo, vi do io il via per staccarvi, eh? Saliamo. Che belle scimmiette. Aspetta che chiediamo una mano, hai ragione. Eh, Bea? Abbiamo bisogno di una mano, un secondo. Pronti? Al mio tre, stacchiamo tutti le gambe e alziamo le ginocchia. Pronti? Uno, due, tre. Appendersi sulle ginocchia, via. Tutte e due lavi sulle ginocchia. Su, su, su. Adele, stretta. Resistiamo così. Brava, Bea. Come sei efficiente. Su, su, su. Stringere. Vediamo chi resisterà di più. Intanto vorrei sapere, Chiara, secondo te chi vince? Adele? Virgi? Tutte boh? Marti! Scenditi, scenditi, sei mossa troppo. Stavi resistendo, vieni giù. Vieni giù. No, resisti. Chiara. Perso, su, su. Ah, la vigna ha perso. Tira le più su, Franci, dai. Tira su, tira, tira. Dai, dai, che ce l'ha fatta. Siete fortissime. Ops. Sono rimaste Giada, Virginia e Adele. Tiriamo anche un po' le punte, Giadina. Faticaccia, eh? Resistere, resistere. Chi vince, secondo voi? Lavinia? Adele? Birgi per Marti e per Chiara? Non lo sai. Franci? Ci deve pensare. Stringere. Mamma mia, Giada, stai diventando rosso come un peperone. Ah! Ah! Bravissime, però, eh. Adele e Virginia. Adele e Virginia. Chi vincerà? Adele ha il cubetto un po' storto. E come fa? Eh, vabbè. Tanto se le gambe cadono, il cubetto cade. Adele. Intanto loro stanno scommettendo. Oh! Virginia, bravissime, eh. Eh, Adele, sei la super campionessa di resistenza. Un'altra sfida. Sì! Facciamo. Un'altra sfida sempre con i cubetti. Sì. Sì. Andiamo al muro. E facciamo, aspetta Giada. E facciamo le seggiole. Ci appoggiamo il cubetto sopra le ginocchia, sempre. E poi dopo vediamo chi resisterà più con le gambe. Però le braccia le teniamo in alto. Va bene? Pronti? Via! Andiamo tutti al muro. Tre. Voglio vedere le ginocchia belle piegate, eh. Tre. Due. Uno. Via. Giù il sedere. Lavinia un po' di più. Virgi un po' di più. Marti un po' più giù il sedere. Così. Ok. Su le braccia contro il muro. Chi abbassa le braccia ha perso. Così, va bene. Resistere. Lavi vai un filino più giù col sedere. Virgi, chiudi un po' di più i piedini. Mettili un po' più vicini al muro, i piedini. Così. Non crollare. Resistere. Non crollare. Tieni sulle braccia. Come crollo. Faccio un giro di chi vincerà. E non cadete adesso, eh. Lavi chi vincerà. Dai, pensateci. Non potete dire sempre... Chi? Dai, punta. Non vale. Virgi, se lo rifai hai perso. Adele. Tu punti su Adele. Franci? Virgi. Virginia. Giada? Chiara. Chiara? Justo per Cade. Virgi? No, resisti. Virgi? Adele. Adele. Marti? Chiara. Virginia? Chiara? Adele. E Adele? Chiara? Chiara, vai un po' più su con quel sedere. Adele. Resistere. Ma hai detto che era facilissimo, Francia. Resisti, resisti. Dai, che siete fortissime. Adele. O stai su con il sedere o sei caduta. Adele è crollata. Chi è che aveva detto che vinceva Adele? Chiara è caduta. Marti non vale. Rimettetegli su. Perché anche la Francia è crollata. Chi è crollato viene via dietro. Martina. Sì che sei crollata. Martina. No, Martina non è caduta. Gliel'ha buttato giù la Chiara. Per sbaglio. Sì. Resistere. 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 Vengo a controllare. Adele. Lavine avvicina un po' i piedini al muro. I piedi. Eh. Ancora un po', così. Anche tu Virgi avvicina un po' i piedini al muro. Giada, tu no. Su le braccia. Marti un filo più giù sederino, pochissimo. Mamma mia, che resistenza. Marti, peccato. Peccato, sei stata proprio brava. Bimbe, zitte. Lavinia, se i piedi non vanno vicini al muro hai perso. Vicina, vicina, vicini i piedi e giù sedere. No, non allontanare i piedi. Giù, giù sedere, così. Non vuole mollare nessuna, eh. Giada, fai sempre delle facce. Chi vincerà? Vediamo. Aspetta, aspetta. Fermi. Marti, vieni qui davanti. Shhh, bimbe. Vieni qua davanti, Marti. In piedi. Chi vince per te? Virgi. Virgi. Vieni a Dele una alla volta, dai. Che me lo dite? Chi? Virgi. Virgina. Virgina. Anche tu, Chiara, Virginia? Virgina. Tutte puntano su Virginia, vieni qua. Su chi? No, non si è visto, Franci. Lavinia. Tu punti sulla Vigna, va bene. Lavinia devi mettere i piedi a posto, se no stavolta la faccio cadere. Vinci, Vinci, Vinci. Vinci, Doni. Dai, mi sa che non la vince a Virginia. Anche a me. La Vigna devi mettere i piedi un po' più inizio. Beh, basta. Però la Piede è un po' più vicino al mondo. Giù il sedere. Giù il sedere. Eh, così. Stai appoggiato al muro. Fa male. No, Virgina, no. Virgina, metti i piedi vicini. No, la Vigna, no. Resisti. Spingi. Spingi. Oh, la... Povera Lavi. Bravissime, bravissime, però. Ok. Ma anche sono stata bravissima. Brave. Le facciamo una. No, basta, sfide oggi. Ti devo fare una doccia. Ti devi fare la doccia. Puzzi come un maiale. Puzzi come un maiale. Bello, buona sapersi. Mettete un like. A 300 faremo il prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti